Buongiorno e bentrovati a mattino 6. Oggi, giovedì 4 agosto, si venera San Giovanni Maria Vienne. Dardì, piccolo paesello della diocesi di Lione, fu la patria del santo curato. La sua famiglia si dedicava ai lavori agricoli e Giovanni, quando fu giunto all'età di 7 anni, dovette aiutare il fratello maggiore nei campi. A 13 anni sente nell'anima il desiderio ardente di farsi sacerdote e gli vorrebbe subito seguire la divina chiamata, ma per un po' ne è impedito dei lavori campestri. In questo tempo, però, egli si esercita nella grammatica latina ed impara a recitare il rosario, se non che la chiamata alle armi interrompe gli studi. Dopo 14 lunghi mesi di perplessità e di fatiche, viene quasi miracolosamente rimandato a casa, entra in seminario e trova molta difficoltà negli studi, ma egli è costante, prega la Santissima Vergine per la sua pietà, viene ammesso agli ordini sacri il 9 agosto del 1815. Sacerdote viene eletto vicario e poi mandato parroco ad Ars. Trovò quella parrocchia completamente abbandonata e subito si diede a risanarla dai corrotti costumi. Essenuato dalle fatiche, macerato dai digiuni e dalle penitenze, il 4 agosto 1859, terminò i suoi giorni in nome del Signore. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le notizie nazionali e dal mondo. In apertura del Corriere della Sera, vediamo, nelle carceri hanno fatto fessa per gli attentati, parla Orlando in cella, 300 islamici radicali. E poi la fotonotizia, rifiuti, il direttorio processa, la raggi, i 28 mila cassonetti in affitto. E poi il caso Roma, il leader che manca ai 5 stelle, l'articolo di stella. E poi ancora il pakistano espulso, giocava a cricket nella nazionale, ma voleva colpire l'Italia. Intervista con Weidman della Bundesbank, non si cambiano le regole per aiutare un governo. Nel taglio basso vediamo braccata per tre mesi dall'ex, poi il rogo, le minacce, i riavvicinamenti, la denuncia rinviata, Bania, un'altra morte annunciata. Passiamo alla Repubblica, in apertura Libia piano in tre fasi per battere il califo. L'Italia blinda i porti, i pinotti, basi agli aerei USA, controlli su 10 foreign fighter, il pakistano espulso era stato azzurro di cricket. Il teorema matematico del tacquino di viaggio e poi ancora in centropagina vediamo la fotonotizia altre due uccise dai compagni e quella IAD di casa nostra che brucia le donne libere. L'Atac, il trucco degli appalti a Roma, così le gare finivano agli amici. Nel taglio basso vediamo il popolo delle rate, da 360 euro al mese, siamo sempre più indebitati. E poi uova depositate, sorpresa in spiaggia, è tornata la tartaruga. Il Fatto Quotidiano, nomine Bavaglio, RAI referendum Giannini Renzi, fa peggio di Biblitz sui TG, scontro in vigilanza PD diviso, oggi decide il CDA. TG3 addio, ci resta solo l'ultimo dei talk show e poi la strage di Bologna, il 3 agosto liberi tutti, Fioravanti, Mambro e la Kermess con i due Big Damn. Guerra di Libia, Isis, Lapinotti, dalle basi a Obama, report USA sulla nostra sicurezza. Il ministro informa la Camera ma era stato già tutto deciso. E poi l'indagine, PM, raggi, ASL, si archivi tutto, Cantone però sgrida Virginia. E la mossa Cyber Security ma senza Carrai, l'amico di Matteo, arriverà dopo il voto sulla riforma. E domani il Via Cani, dispersi e clave indiane, giochi da pazzi. Passiamo alla stampa, l'Isis sfrutta i migranti in Italia, così in apertura. Il ministro Orlando indaga l'antimafia, indirizzano i flussi dalla Libia. Pinotti, titolare della difesa, pronti a concedere le nostre basi per il raid contro gli uomini del Califo e a Sirte. In centropagina, altri due femminicidi a Lucca e a Caserta, grasso, schifosi, assassini. E poi le foto delle donne, la strage infinita, 76 donne uccise solo nel 2016. Vediamo libero, non c'è più religione, così in apertura, francesi peggio degli islamisti. Il parroco di Santa Rita a Parigi, sloggiato con violenza al posto della sua chiesa, ci sarà un condominio. E sulla promenade di Nizza, gli sciacalli rubavano il portafogli ai cadaveri delle vittime dell'attentato. Capitano della Nazionale Italiana di Cricket, espulso per terrorismo, lite sul reato di integralismo. Libiato secondo, ancora una volta perderemo la guerra senza neppure farla. E poi ancora Consoli a Veneto Banca, ha messo insieme 45 milioni di euro, così il banchiere arrestato si è arricchito. La svolta al Corriere, Cairo caccia tutti e si fa eleggere plenipotenziario. E poi i nuovi direttori, la prima RAI con tre TG in quota governo. Nel taglio basso, cerco silenzio, trovo paesi travolti da numerosi sfigati, paradisi violati, da sagre notturne, villaggi turistici attivi 24 ore su 24. L'unità, uomini che uccidono le donne, ogni tre giorni una donna uccisa dal compagno, dal marito, dal fidanzato, dall'amante. Contro il femminicidio, agire su educazione, sostegno e vittime di stalker, tutele, sicurezza. In centropagina Libia, la battaglia finale, Pinotti sì all'uso di vasi, se richiesto contro Isis, un atto dovuto contro il terrore. Raggi e le faide a 5 stelle bloccano Roma, caos rifiuti, una vicenda inquietante. Se poi ancora vado a troppi errori dei banchieri, elezioni USA, ancora Ilari alla conquista del voto dei neri. E le riforme sindaci in prima fila nella campagna porta a porta. Il manifesto, ferie di guerra per il Parlamento, l'Italia partecipa con le basi aeree. Ora Erdogan spinge sul nazionalismo e su una feroce retorica anti-occidentale. In centropagina la fotonotizia, premierai così il titolo, oggi il CDA di Viale Mazzini vota la nuova RAI a misura di Renzi, premiate le voci allineate e via quelle pluraliste. Al Tg1 resta inchiodato Mario Orfeo, al Tg3 Bianca Berlinguer sostituita con Luca Mazzà. Al Tg2 sacrificato Masi, le opposizioni peggio di Berlusconi nella notte e scontro in vigilanza. Avvenire in apertura il fatto assedio alla Speranza, Aleppo nella Morsa, civili stremati da bombe e fame, Pinotti sì all'uso delle nostre basi per i raid in Libia. Il boia che non molla, crescono le esecuzioni. Ed ancora Galletti, Raggi si decida, rifiuti già oltre il limite. Andiamo avanti il gazzettino, l'inchiesta in apertura, le telefonate che accusa Consoli, Veneto banca dalle intercettazioni le manovre per mantenere il controllo. Dobbiamo riprenderla domani. L'interrogatorio dell'ex AD Rossi Luciani, bisognava tagliare prima con il passato, ha detto. E poi Pinotti ancora Libia, l'Italia pronta a dare basi aeree per i raid USA. Treviso, accoltella al cuore il fratello, non picchiare la mamma. Lei 13 anni, lui 15, si salva per miracolo. E poi a Lucca, in breve, morta la donna bruciata dall'ex, voleva denunciarlo. A Padova invece, vediamo, caos, profughi, vertice con Alfano. Provvederò, ha detto. Il secolo XIX, Genova, il segno della IAD, il ministro Orlando, l'ISIS indirizza i flussi dei migranti, indaga. L'antimafia, arrestato un siriano, radicalizzato in Liguria, tre imam tra i dieci indagati. Vediamo in breve il personaggio. Il pakistano espulso fu il capitano azzurro dell'Under-19 di cricket. E poi i raid su Sirte e Pinotti, l'Italia è pronta a concedere le sue basi agli USA. Il commento, il coraggio di fare muro per isolare i fanatici. E poi ancora, in centropagina, vediamo la fotonodizia. Una storia in ogni porto, la Liguria e il suo mare. La moglie e la leggenda, De Gabbiano, in mezzo all'oceano. Vediamo la soluzione europea. Così Banche, Renzi, ora pensa di usare i soldi del fondo Salva Stati. Centro-destra, Berlusconi apre al patto di Salvini. Scaiola, Toti, pensi alla Liguria. Nel taglio basso l'omaggio vediamo Montale, la mia infanzia, nella Genova a Chioccola. Un saggio svela i segreti del grande poeta del Novecento e la piaga femminicidi. Vediamo, morta l'infermiera Di Luca, donna uccisa a Caserta. La Gazzetta del Mezzogiorno, Libia, Renzi assiste Obama. Il governo pronto a concedere l'uso delle basi per i raid anti-ISIS. Maxi allerta, terrorismo a Roma, a Varese arrestato, giovane siriano, trasporti, ancora treni, 300 milioni per binari più sicuri. Il governo promette soldi e cambia le regole. Freccia rossa a Varletta, Trenitalia, non dice no. In centropagine il caso dell'agenzia, vediamo il rigua forestale. In Puglia, 550 interinali inutili, scandalo delle assunzioni all'IRIF. E poi calcio, la prima col Cittadella, Bari il debutto in casa. Presentati i calendari di Serie B, Lega Pro, oggi il sì, a Taranto e Melfi. Ed ora passiamo al messaggero, vediamo la prima pagina del messaggero in apertura. Quali notizie riporta? Vediamo l'edizione direttamente dedicata alla regione, ma le notizie nazionali. In apertura quindi Libia, l'Italia farà la sua parte, la Pinotti alla Camera, pronti a concedere agli USA l'uso delle vasi e dello spazio aereo, i grillini, follia. La sinistra chiede un voto, Washington accelera il raid e Trump protesta. In centropagina minaccia Iadisse, la capitale in un video, Roma blindata, Varchi al Colosseo, regia Isis sui flussi dei migranti. E poi a Roma il caos rifiuti, allarme del governo, il Movimento 5 Stelle processa Raggi e Muraro, Galletti, situazione indegna di Roma e Grillo, striglia la sindaca. Sfida sulle riforme, ancora referendum, come evitare una Brexit in casa nostra. E poi banche, mini rimbalzo in borsa, Padoan superato lo scoglio sofferenze, ma le casse girano le spalle ad Atlante 2. E poi nel taglio basso vediamo RAI, assunzioni esterne nel mirino, ANAC, audizione da Cantone nel giorno della bufera sulle nomine, ITG. In breve un altro femminicidio a Caserta, Lucca, morta la donna bruciata viva, in carcere il collega che aveva lasciato. Entriamo all'interno, quindi in primo piano abbiamo visto il retroscena ride in Libia, la Pinotti apre, l'Italia è pronta a fornire le basi. Lo scenario, il ruolo delle missioni navali nel caso arrivi l'escalation. E poi la strategia, vediamo, gli USA vogliono fare presto, si decide il futuro di Serrai. Il conflitto, infine, Siria, da Aleppo, la reazione del regime strage di civili, attacco con il Napalm. Ancora in primo piano, quindi la minaccia iadista, presso a Roma, città blindata, varchia il Colosseo, nel video dei terroristi. Anche immagini di Piazza Navona, nuovo piano per via del Corso, pattugliata dall'esercito. E l'audizione, orlando i flussi migratori, decisivo il ruolo dell'Isis. Preso, intanto, ancora dall'operazione, un altro estremista siriano, indagati tre imam a Genova. Il giovane arrestato era a Varese da quattro anni e voleva unirsi ai combattenti, fermato per prevenire uno scenario come in Francia ed evitare la fuga. Ed ancora il combattente, lo vediamo, il pachissano espulso nella foto per terrorismo, era capitano degli azzurrini di cricket. Ancora l'intervento, Padoan, stress test penalizzati per Montepaschi, ma le sofferenze non fanno più paura. Il ministro alla Camera critica la metodologia usata dall'Eba, ma ricorda gli errori e gli illeciti del management creditizio. La giornata, mini rimbalzo a Piazza Affari, resta al palo, solo Unicredit. E poi l'intervista a Giuliani, tassi a zero e stretta sui salvataggi, il mercato azionario valerà ancora. No delle casse ad Atlante 2, incognita aumenti in borsa, il passo indietro degli enti previdenziali insoddisfatti del ritorno dell'investimento, la volatilità alimentata dalle massicce richieste di fondi per le ricapitalizzazioni. E poi vediamo il progetto Juliet nella grafica, le banche a Piazza Affari. Passiamo avanti, caos e rifiuti a Roma, il governo striglia, Campidoglio e Regione. Ora serve il termovalorizzatore Galletti, situazione indegna. Vedo una sindrome da autosufficienza, ma la mia disponibilità ora non quando sarà tardi, ha detto. E l'intervista a Stefano Vignanori, vediamo Virginia Scelse Paola all'ambiente, non metterei la mano sul fuoco per lei. Se dovesse essere indagata, ha detto, valuteremo le accuse, su questo il movimento ha principi chiari. E poi l'inchiesta, vediamo l'indagine sull'assessore e quell'appalto vinto dalla società con le tariffe più alte, le mosse della finanza e dei carabinieri del NOE. I radicali, ancora la capitale rischia multe milionarie UE. Ed ancora la giornata, nella pagina successiva, così non va, Grillo, Gela Raggi, Muraro, convocata, devi chiarire. Nella notte il direttorio processa, il primo cittadino sulle nomine telefonata del leader. I timori dobbiamo reggere fino alle politiche, l'ex consulente ama alla Camera da Di Battista. Nel taglio basso il caso, il PM, caso ASL, archiviare le accuse alla sindaca, ma Cantone la bacchetta, moduli incompleti. Andiamo avanti, Parisi da Berlusconi, una costituente se il NOE vincerà al referendum. La bozza di Didiel è già pronta, il sì del Cavaliere e anche Salvini ad Arcore, dopo mesi di gelo. Un altro nome per Forza Italia. L'intervista ad Ascola, vediamo nuova prescrizione, salvaguardato, scusate, il carattere garantista della legge. E la polemica, Camera, stipendi dimezzati e test antidroga a Bagher sulle proposte, provocazioni del Movimento 5 Stelle. Il caso Rai, 21 assunzioni esterne, ora l'ANAC vuole chiarezza. La proposta, in centro pagina, inno di Mameli, un DDL per ufficializzarlo. E poi ancora nel taglio basso, l'inchiesta rivolta sui social, tornano Lillo e Greg, il piano di conti per la nuova Radio Rai. Austria, soldati al confine ungherese, la crisi migranti nonostante la fine dell'esodo dalla rotta balcanica. Vienna vuole bloccare le frontiere, è una iniziativa umanitaria. Presso un vertice con il governo di Budapest, l'asilo non ha senso se è inefficace la politica dei rimpatri. E poi il caso Erdogan Junior, la procura di Bologna. Andiamo avanti, non abbiamo commenti da fare. La replica alle accuse di Ancara per l'inchiesta sul presunto riciclaggio. Ed è morta nelle cronache, vediamo la tragedia. L'infermiera data alle fiamme dall'ex voleva denunciarlo. Lucca non ce l'ha fatta a Vania Vannucchi, ai soccoritori. Aveva detto è stato Pasquale, l'uomo sposato è stato arrestato. L'accusato nega, ma a inchiodarlo sono due ustioni sul braccio. Me le sono fatte lavorando in casa, ha detto. E il delitto, vediamo Caserta, la lite e poi la furia omicida, uccide con 12 coltellate la compagna. L'uomo si è consegnato ai carabinieri con le mani sporche di sangue e l'arma utilizzata. Grasso che ha detto appunto schifosi assassini, il piano antiviolenza non basta. Servono ulteriori risposte concrete. La guerra nel taglio basso, spari nel centro di Napoli, due vittime sullo sfondo dell'aguato. La lotta tra bande per la supremazia nello spaccio di superfacenti. Prima pagina dedicata all'economia. Vediamo in apertura statali più digitali a casa e in ufficio. La Camera chiede al Governo correttivi al decreto sulle tecnologie nella pubblica amministrazione perché tutti devono poter usare i propri dispositivi al lavoro allo stesso tempo. Il cellulare concesso e incomodato d'uso dall'amministrazione potrà essere usato per chiamate private. E la strategia sicurezza della rete ferroviaria del Rio ha stanziato 300 milioni. E nel taglio basso infine vediamo la misura equitalia dalla riapertura delle rateizzazioni attesi 3,7 miliardi per aderire due mesi dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge di conversione attesa a giorni. E con la pagina dedicata all'economia ci fermiamo per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Giovanni buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Giovanni allora quali aggiornamenti per questo fine settimana? Diciamo che non sono aggiornamenti positivi perché se da un lato nelle prossime ore continueremo a avere condizioni di tempo stabile prevalentemente soleggiato sulla nostra regione con temperature in ulteriore aumento, da domani il tempo inizierà a cambiare perché è in arrivo una perturbazione, un nucleo di aria fresca proveniente dalle isole britanniche che in mattinata inizierà di interessare le regioni settentrionali e dentro la serata, la tarda serata si spingerà verso le regioni centrali dando luogo ad una nuova fase meteorologica caratterizzata dall'instabilità piuttosto marcata con dei temporali che potrebbero manifestarsi già nella serata nottata di venerdì e comunque si intensificheranno probabilmente nella giornata di sabato un po' su tutto il territorio regionale con temperature in graduale diminuzione. Non si escludono fenomeni di forte intensità e questa situazione continuerà ad essere tale anche durante le ore serali e notturne. Attenzione perché ci potrebbero essere dei temporali anche in serata e nottata nella nottata tra sabato e domenica lungo la fascia orientale della nostra regione. Instabilità presente pur in lenta attenuazione anche nella giornata di domenica con rischio di addensamenti e temporali inizialmente sulla fascia orientale della nostra regione e poi nel corso del pomeriggio i temporali interesseranno anche il settore occidentale quindi la Marsica e l'Aquilano. Una situazione questa che continuerà a manifestarsi pur con una situazione in graduale miglioramento se così possiamo dire nella giornata di lunedì poi però dopo un temporaneo miglioramento atteso tra martedì e mercoledì gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici mostrano un possibile deciso peggioramento del tempo a partire dalla metà della prossima settimana. Peggioramento caratterizzato probabilmente dall'arrivo di masse d'aria fredda provenienti dall'Europa settentrionale che se confermate potrebbero portare ancora una volta temperature in generale diminuzione e ancora dei temporali su gran parte delle nostre regioni ma di questa situazione ne riparleremo diffusamente nei prossimi aggiornamenti mentre è confermato il maltempo, l'instabilità a partire da domani sera e soprattutto nelle giornate di sabato e domenica. Elisa. Bene, grazie Giovanni, ti auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie Elisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. E come sempre ricordo che oltre al sito internet Abruzzo Meteo potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo oppure attraverso il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma. Potete così postare commenti, porre domande e essere sempre aggiornati in tempo reale sulle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria. A tra poco. Eccoci rientrati alla seconda parte di mattino 6. Passiamo alle notizie regionali. Dal centro vediamo le prime pagine. Iniziamo con la pagina dedicata a Pescara. In apertura Ryanair resta salvi i posti di lavoro. La compagnia low cost ci ripensa e mantiene voli e base a Pescara. In centro pagina calciomercato per la difesa arriva un rinforzo ungherese. Il Pescara convince e batte il Vicenza 2 a 1 gol di Manai e Caprari. Nelle cronache causa da 15 milioni concordato a ACA, la BNL e 12 ditte fanno ricorso. Negozi nel Milino, altri due colpi con lo scooter in pieno centro. In Francavilla invece baby terribili, minorenni alla guida e con la droga in auto. Due giovani morti in moto, tragedia a Ortona e a Teramo. Le vittime avevano 24 e 29 anni. passiamo alla prima pagina invece dedicata alla provincia di Chieti, Lanciano e Vasto. Vediamo in apertura. Muore nello schianto contro il tir ad Ortona. La vittima a 25 anni era in moto. Altra tragedia nel Teramano. Vediamo nella foto. Massimo Macrini avrebbe compiuto 25 anni domenica prossima. Nelle cronache in Chieti, crack carichieti, regolamento per i rimborsi con obbligazioni subordinate. In Vasto, rilancio denso a Ferragosto, operai al lavoro. In Lanciano, gruppo Maio, i dipendenti senza stipendio, vertenza aperta. E Ryanaira rimane in Abruzzo. La compagnia low cost ci ripensa e mantiene voli e base a Pescara. come abbiamo visto. Vediamo ora la pagina, la prima pagina dedicata alla provincia di Teramo. In apertura l'altra tragedia. Il tragico schianto muore a 29 anni. Teramo era con il factotum del circolo tennis e stava per sposarsi. La vittima nella foto. La scena del tragico incidente avvenuto a San Nicolo a Tordino e la vittima, Nicola Puliti Teramano, di 29 anni. Nelle cronache Team diffida al comune da 3 milioni pagate entro 7 giorni. Il gruppo GLM si rinforza con nuovi soci. Ancora in Giulia Nova bollette del gas gonfiate scatta la protesta. Ryanair rimane in Abruzzo nel taglio basso. Passiamo ora alla prima pagina dedicata all'Aquila, Vezzano e Sulmona. Vediamo in apertura oggi il centro legato e rapinato dai banditi a Balzorano, agguato al rappresentante di gioielli presi 7 kg di oro. In centropagina Paganica lavori di ricostruzione precipita dal lucernario sul tetto grave un elettricista di 44 anni. Nelle cronache gli incidenti, due ragazzi morti sulle strade abruzzesi. In Avezzano vediamo denunciato, entra in banca e minaccia il direttore. In Sulmona un anziano va alla stazione e sparisce. E poi la notizia di Ryanair nel taglio basso. Passiamo ora al quotidiano della provincia di Teramo, la città. Vediamo l'apertura di oggi. La città che apre con la tragedia appunto nel Teramano muore a un mese dal matrimonio. aveva appena firmato la promessa. Ieri si è schiantato in scooter contro un'auto che gli ha tagliato la strada. Gattiani silenti dopo l'uscita di Rudy, la politica bocche cucite dopo l'attacco al sindaco dell'ex assessore. Silvi smantellato lo storico bar San Giorgio, Giulianova ex Sadam del progetto faraonico. Resta solo il miraggio. E poi arte in centro. La scuola cattolica stasera a Castelbasso. L'incontro con albinati. Sconfitti i gufi. Vediamo la notizia. Ryanair resta all'aeroporto d'Abruzzo. Entriamo all'interno. Vediamo la pagina dedicata alla regione. Nasce il comitato per dire no al progetto Toto lanciata alla campagna di informazione sul territorio regionale. Oggi primo appuntamento a Sulmona. Chi ha aderito al comitato? Ne fanno parte associazioni, movimenti, sindacati e singoli cittadini. L'idea è quella di una visione alternativa alla gestione del territorio basata sul rilancio del trasporto pubblico. Dossier, il coordinamento ha già realizzato un documento in cui si evidenziano le criticità. Sulla variante Toto è pronto anche il dossier degli ambientalisti. Il forum dei movimenti per l'acqua prosegue la sua battaglia contro il progetto della variante. Vediamo il contributo video su questo articolo di Francesca Romana Tessi. Un dossier dettagliato pronto per il ministro alle infrastrutture Graziano Del Rio che dimostra pagina per pagina tutte le contestazioni apposte al progetto della variante Toto. Quello che prevede il perforamento di beni ambientali di primaria importanza e a presentarlo è il neonato comitato istituito dal forum abruzzese per l'acqua. Folle a nostro avviso pensare di forare per 50 chilometri, 5 volte il traforo del Gran Sasso, le nostre belle montagne, i Simbruini, il Sirente, addirittura sfondare le gole di San Venanzio, le gole del Sagittario. Fare bretelle autostradali anche nei fondovalle Valvomano e nel fondovalle di Pescara dove la qualità della vita è precaria proprio per l'inquinamento atmosferico. Consumo di suolo, insomma un progetto faraonico del costo di 13 mila miliardi delle vecchie lire, 6,5 miliardi di euro. Riteniamo che la regione Abruzzo abbia sbagliato a dare un parere favorevole di Massima, lo debba ritirare e abbiamo mandato una diffida anche al Ministero. Nasce un coordinamento di associazioni, comitati, movimenti politici, singoli cittadini, coordinamento Nototo Salviamo l'Abruzzo. Noi pensiamo che la vera grande opera sia il risanamento del territorio, la depurazione, mettere a posto le scuole, le strade esistenti che fanno schifo in larga parte d'Abruzzo. A questo bisogna puntare e non fare nuovi scempi. Hanno spiegato la regione Lazio in particolare che si risparmierebbe qualcosa perché attualmente secondo la regione Lazio si va a 90 km all'ora su questa autostrada. Se uno utilizza questi dati è chiaro che vengono fuori risparmi di tempo esorbitanti. Siccome si va a 120, secondo le regole, direi 130 anche, il risparmio sarebbe di 5-10 minuti. Assolutamente non vale la candela il gioco perché distruggerebbe il nostro patrimonio ambientale e quello che ci dà la vita, l'acqua. Ed ancora dal quotidiano la città muore in scooter a un mese dal matrimonio. L'abbiamo visto in prima pagina la Peugeot di una quarantenne in Italia alla strada davanti al Troni. Nicola Puliti, 29 anni, muore al pronto soccorso. Lo scooter vediamo sul luogo dell'incidente, a destra, la vittima. Il 2 settembre sarebbe convolato a nozze con la sua Valeria. I due avevano appena suggellato la promessa di matrimonio in municipio. Il ragazzo Nicola era molto conosciuto in città, lavorava come custode al circolo tennis della Gammarana. Nel taglio basso restyling, corso, i negozi del lato destro pronti alla liberazione. Domani sopra il luogo della sovrintendenza per fare il punto sui reperti romani di fronte alla banca Tercas. Andiamo ancora avanti la nuova segreteria, mai più code per gli studenti di Unite. Il rettore Luciano D'Amico inaugura i nuovi uffici al campus, un open space con tutti i servizi indispensabili. La segreteria è il primo luogo visitato dai ragazzi e per questo abbiamo pensato di accoglierli come se fossero a casa, ha detto il rettore. La battuta di D'Amico, se non dovesse andare in porto l'asseggio via, abbiamo pensato ai tappeti volanti. E i complimenti di Pepe, l'Università di Teramo campionessa di autofinanziamento tramite bandi. L'Ateneo Terramano negli ultimi anni ha trovato il giusto equilibrio tra fondi ministeriali ed europei. Andiamo avanti, silenzio da futuro in dopo l'appello di Rudy, bocche cucite in via Vittorio Veneto dopo il feroce attacco a Brucchi da parte dell'ex assessore Gattiano. Lo vediamo nella foto a sinistra, Rudy Di Stefano e Paolo Gatti sulla destra. La commissione, questa mattina nuovo banco di prova per la maggioranza nella commissione sull'urbanistica. Ed ancora vediamo Villeroi, un tesoretto da 6 milioni per la città. Per Marcozzi dell'Api i ricavi della vendita dei capannoni dovrebbero tornare al comune, non all'Arap. Il vincolo, i terreni furono donati dal comune a Randi con due vincoli che ne impedirebbero la vendita. Servizi, nuovi orari negli uffici postali, aperti anche nel mese di agosto inalterato il servizio sul territorio. È sempre a Teramo, riqualificazione urbana delle periferie. Via Libera ingiunta ai quattro progetti riguardano il vecchio stadio, la stazione Via Piave e la ciclabile. Provincia russa, ubriaca, travolge agente di polizia a Silvia. Rientro da una cena con le amiche. Forza, un posto di blocco sull'Adriatica senza nemmeno accorgersene. Triple la denuncia. La donna è stata denunciata per guida in stato d'ebrezza, lesioni e omissione di soccorso. L'agente se l'è cavata con una contusione. Rientro pericoloso, non ha visto l'auto della polizia e l'agente che agitava la paletta, inseguita e costretta a fermarsi poco dopo. Economia. Pop Bari via Libera alla cartolarizzazione degli NPL di Tercas e Caripe. Dopo la firma del decreto del tesoro, l'istituto sarà il primo ad accedere alle GAC concordate con la commissione UE. Ed ancora, ad Isola del Gran Sasso, per chi suona all'orologio di Isola, la storia di Maria Rita, una donna cieca che da sempre si orienta con i suoi rintocchi, ma non più autonoma da quando il meccanismo si è guassato di nuovo alcuni mesi fa. San Pietro di Isola, arte in natura, terza edizione alla Scuola Verde. Ancora vediamo le iniziative. Faraone ha premiato le idee sulla sicurezza a studenti delle superiori e artisti coinvolti nell'elaborazione di buone pratiche per migliorare le condizioni del posto di lavoro. Andiamo ancora avanti. A Tortoreto, de or incongruenti col borgo storico, terrore a Tortoreto alto per una comunicazione della sovrintendenza. Le contestazioni colori, forma, spazi e superfici degli estremi dei locali, degli esterni dei locali non adatti alla storicità dei luoghi. Il da farsi, probabile una stretta, non si esclude un nuovo regolamento, possibili le ordinanze di smantellamento. Ad Alba Adriatica, settimana calda con la decima edizione di Eros Adriatica. A Martinsicuro, banchi del pesce, via libera al bando per assegnare dieci posti al porto. Santomero, un altro passo avanti per il nuovo piano regolatore, approvato il piano del rumore, atto propedeutico all'adozione dello strumento. Urbanistica, Giulianova, vediamo ex Adam, addio al progetto faraonico, doveva essere il cantiere più importante dell'Adriatico, per ora ne è stata realizzata solo una minima parte. Regione, sempre a Giulianova, religione, scusate, sempre a Giulianova, partiti i walker del cammino Terramano, 100 km in 4 giorni alla volta di San Gabriele. E poi la partecipazione, quartieri, tempo di votare a fine settembre il rinnovo. Andiamo ancora avanti, vediamo a Silvi, demolito il bar Chalet di Piazza Marconi, era abusivo ma per 50 anni è stato il punto d'incontro della movida Silvarola. Pineto, 69 biciclette per il bike sharing, pensando già alla Cerrano Road. Atri, pubblicati i bandi per gli incarichi sulla scuola Acquaviva. Ancora Silvi, primo incontro tra sindaco e neocomitato Silvi Sud, in assemblea raccolti i primi nodi tematici da proporre all'amministrazione Comignani. Cultura in apertura, vediamo decore, quel palido sole che scotta nel libro del saggista in un viaggio nel cuore del sud fra ritratti di scrittori e tensione civile. Ed ora torniamo al centro, vediamo l'edizione dedicata alla provincia di Pescara e all'interno qualche notizia più nel dettaglio appunto sul pescarese. Vediamo, come detto, all'interno dell'edizione dedicata a Pescara. Abbiamo visto la prima pagina in apertura, quindi la notizia di Ryanair che resta all'aeroporto d'Abruzzo, quindi ok, restiamo, salvi voli e posti di lavoro, la compagnia aerea Love Cost mantiene la base a Pescara, c'è l'accordo con la regione per un contratto pluriennale che prevede nuove rotte. E anche su questo articolo ci fermiamo per vedere il contributo video di Alfredo Primante. Ryanair resta nell'aeroporto d'Abruzzo. La notizia era nell'aria, soprattutto dopo l'approvazione dell'emendamento al decreto antilocali che ha cancellato per l'anno in corso l'aumento delle tasse aeroportuali, ma questa mattina è arrivata l'ufficialità al termine della riunione tra i vertici della compagnia Locosti irlandese O'Liri e O'Brien, il ministro per le infrastrutture e i trasporti del Rio, i presidenti delle regioni Abruzzo e Sardegna D'Alfonso e Pigliaru e il presidente della conferenza Stato-Regioni Bonaccini. Dunque con l'approvazione definitiva del decreto ieri da parte del Senato è stata disinnescata una bomba potenzialmente letale per l'economia e il turismo abruzzese in grado di far abbassare le serrande allo scala aeroportuale di Pescara gestito dalla Saga. Infatti Ryanair ad ottobre, subito dopo la decisione del governo di aumentare di due euro e mezzo l'addizionale comunale come sussidio ad Alitalia, aveva annunciato di voler abbandonare le basi negli aeroporti minori Pescara e Dalghiero. Dall'aeroporto d'Abruzzo attualmente il vettore irlandese garantisce i collegamenti verso importanti destinazioni europee come Londra, Parigi, Francoforte, Barcellona, Dusseldorf e Bruxelles e verso il nord Italia con Milano. Il lavoro fatto in cento giorni ha portato risultati non solo per l'Abruzzo ma anche per le altre regioni. Ryanair ha riconosciuto il nostro lavoro e la connettività aerea è confermata. Queste le prime parole del presidente D'Alfonso al termine della riunione che ha lasciato in sospeso però la sopravvivenza della base di Alghero in Sardegna. D'Alfonso ha proseguito spiegando che una parte della copertura finanziaria arriverà dalla regione dopo il passaggio in giunta di domani e poi in seguito ci sarà un bando per la collocazione turistica dell'Abruzzo che punta a far superare alla regione le 700.000 presenze annuali e in futuro anche il milione. L'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, ha ringraziato il presidente del Consiglio Matteo Renzi e il ministro del Rio che si è impegnato a rivedere le linee guida. Ha riferito il top manager che poi ha chiusato, spero che potremo mettere in campo delle belle sorprese e presentare un piano di crescita di Ryanair in Italia. All'interno del quotidiano il centro vediamo i suicidi possono essere evitati. L'esperto dice come i consigli delle psichiatra, professore e consulente dell'OMS, il primo passo è far parlare la persona poi. C'è la medicina, ha detto. Vediamo a Pescasseroli le zone controllate orso da tutelare e turisti a numero chiuso nel parco. Passiamo avanti, GLM, nuovi soci, attacco ai mercati mondiali. L'azienda meccanica di Castellalto nata dall'idea di due ex operai della MTA, rinforza il capitale con l'ingresso del fondo di investimento Start Capital SGR. Andiamo alla pagina dedicata a Pescara e vediamo in apertura il contenzioso banca ai 12 ditte contro il concordato ACA. La PNL e le imprese non pagate fanno ricorso alla gestione dissennata di un ente pubblico, non può essere scaricata sui privati. Passiamo ancora avanti, vediamo banda dello scooter a Pescara, due colpi in un'ora, ladri giovanissimi in sella a motorini, mettono a segno spaccate al caffè delle Merci e al concept store di Via Piave. Commercio, la proposta, negozi aperti il 19, notte bianca a rischio, si teme un altro stop per il maltempo. L'evento in programma sabato dovrà sfidare le previsioni nere del meteo e i commercianti di Via Roma protestano. In centropagina vediamo Cuzzi esorcizza il terzo flop, decideremo solo nelle ore precedenti, ha detto. Nel taglio basso riviere troppo rumore di notte, i residenti in commissione accusano gli stabilimenti presentati già cinque esposti e i cittadini, l'altra protesta, no alle palazzine nel parcheggio del lungomare. Andiamo ancora avanti, nuove regole per le imposte, tasse, arrivano le misure per evitare liti col comune, sono entrate in vigore le nuove norme sull'interpello, mediazione e reclamo, più tutele per i contribuenti nei confronti degli errori commessi dall'ufficio Tributi. Ed ancora danneggiata la pista ciclabile, Forza Italia accusa le giostre in viale Regina Margherita e polemica sul colore. Ancora riparte il progetto per il nuovo volto dello stadio Adriatico, incontro tra amministratori tecnici della sovrintendenza e Lega Calcio, Alessandrini riavviato il confronto. Andiamo alla pagina dedicata a Montesilvano, azienda speciale, nuovo presidente, dopo le dimissioni di Severini per i tagli al sociale, il sindaco promuove Cirone, attesa per il nuovo CDA. In breve lo scomparso, il ragazzo scappato, ritrovato a Bologna. Città Sant'Angelo, moto contro auto, giovane ferito, incidente sulla statale 16, motociclista non aveva l'assicurazione. Furto fallito, rubano giubbini all'outlet, arrestati. L'idea del comune di Montesilvano, lampadine a LED nelle scuole per risparmiare sulle bollette. Città Sant'Angelo, sono in arrivo nuovi immigrati, la denuncia dell'opposizione, comune e ASP vogliono fare affari. Città Sant'Angelo ancora in breve, Recubini alla Sgravoni, lavori da 1,6 milioni. E minorenni alla guida con la coca in auto. A Francavilla, la polizia statale dei Chieti scopre casualmente due ragazzini artefici di un incidente sulla variante. Cepagatti, no della minoranza, al piano triennale, dei lavori pubblici, Francavilla, teatro e villanesi per i ragazzi disabili. A Moscufo, cittadinanza onoraria a Marchese, onorificenza ai chiavi del comune al vice direttore di poste italiane. Spoltore, affidati due grandi orti comunali, firmato il contratto quinquennale su due siti agricoli di oltre tre ettari. Colto da infarto, rianimato e salvato vicino all'obitorio. Penne, operazione tempestiva dei soccorritori del 118, strappa alla morte un uomo di 79 anni in arresto cardiaco. E a Torre dei Passeri, il sindaco premia lo 007, bentenuto. Popoli, scuole e lavori conclusi entro il mese di settembre, proseguono gli interventi a Popoli. Vediamo Santofemia, Maiella, teatro, dibattiti e gite agli eremi, il programma di agosto dell'associazione Rocca Caramanico. Appenne ancora i NAS sospendono l'attività del bar, militari ASL rilevano gravi violazioni nella conduzione del locale. Pagina dedicata a Chieti, muore in moto a quattro giorni dal compleanno, l'altra tragedia ad Ortona, Massimo Macrini, 24 anni, si è schiantato nella torre, nella notte contro un tir. La mamma su Facebook, sono in vacanza, non ci credo. Lavorava nell'azienda del papà, funerali a Santa Maria di Costantinopoli alle ore 16. Rimborsi ex carichieti, c'è il regolamento, fallimento della vecchia banca, dal FIDT, le condizioni per riavere i soldi, andati in fumo delle obbligazioni. Pagina dedicata a Teramo, l'altra tragedia, schianto mortale, c'è l'omicidio stradale, Nicola Puliti, 29 anni, si doveva sposare tra un mese la sua moto contro una macchina, la guidatrice svoltava a sinistra. Giocava a calcio con la città di Teramo, era il factotum del circolo tennis Bernardini, il papà Eros, è un conosciutissimo parrucchiere. Pagina dedicata all'Aquila, l'agguato, vediamo legato e rapinato da un commando rappresentante di gioielli bloccato da banditi armati che gli hanno portato via 7 chili di oro per circa 200 mila euro. Violenza, pestaggio al bar, nei guai, 4 rom e a San Benedetto de Marsi, vediamo, fa irruzione in banca e minaccia il direttore, 62enne in cura al CIM denunciato, temeva che gli fosse stato ripulito il conto corrente. A Prato la Peligna va alla stazione, sparisce nel nulla, preoccupazione per Roberto Giangiullo, 73enne, nella foto, scomparso da martedì. Ricostruzione, precipita dal lucernario elettricista, ferito gravemente. Ed ora andiamo avanti, passiamo alla pagina sportiva dal centro, vediamo il rinforzo per la difesa del Pescara, in arrivo Gutmix c'è l'accordo per il centrale ungherese che ha disputato gli europei. Il Memorial Morosini, il Pescara convince con Manai e Caprari a Vicenza, finisce 2-1 per i Biancazzurri, Oddo elogia i suoi. Vediamo ancora domani allenamento all'appoggio, oggi giornata di riposo, sabato la gara contro il Celta Vigo a Castel di Sangro. Andiamo ancora avanti, vediamo il calendario di B, Verona, Carpi e Frosinone, le favorite, presentato il campionato cadetto con Baroni, Marino e Cosmi, ex Pescara, Pisa. I tifosi bloccano l'amichevole col Celta. Vediamo Lanciano, Pupillo, oggi si decide il destino, il sindaco, c'è un imprenditore che vuole ripartire dall'eccellenza e una cordata dalla D, ma domani scade l'iscrizione. E l'amichevole, il Martinsicuro piega il Pineto, 3-1. Teramo invece l'attesa è finita, oggi si conosce il Girone, vicino a Rinnovo il centrocampista Amadio, alle 18 al Bonolis, amichevole con l'Alba Adriatica. Vediamo per quanto riguarda appunto questo articolo del Teramo, quindi oggi il Consiglio federale deciderà l'organico delle ripescate in Lega Pro, subito dopo il direttivo diremerà appunto la composizione dei giorni. Per il Teramo molto probabile l'inserimento nel Girone B con le squadre del Nord-Est. Vediamo il contributo video di Andrea Costantini. Cresce l'attesa in Lega Pro per la composizione dei Gironi. Alla finestra c'è il Teramo, l'unica abruzzese rimasta nella terza serie nazionale dopo la retrocessione dell'Aquila e la mancata iscrizione della Virtus Lanciano. Domani sarà a tal proposito una giornata da circoletto rosso. Prima il Consiglio federale darà i verdetti definitivi sui ripescaggi e una volta conosciuto l'organico delle 60 squadre si provvederà alla composizione dei Gironi. Della lista di pretendenti dovrebbero restare escluse dal ripescaggio Propatria, Lecco, Rieti e quasi certamente Cavese. Dentro tutte le altre. Le previsioni dicono che il Teramo farà parte del Girone B anche quest'anno ma la composizione del raggruppamento sarà diversa visto che Girone A e B prenderanno il centro nord che sarà diviso a metà. La parte ovest nel Girone A, quella est nel Girone B. Questo comporterebbe l'addio alle tante trasferte toscane fatte in questi anni dei Biancorossi ma anche l'inserimento nel Girone di nobili decadute che punteranno al salto di categoria come il Parma di Apolloni, il Venezia di Pippo Inzaghi, la Reggiana di Leonardo Colucci per non parlare di Padova, Bassano e Pordenone, tutte iperattrezzate. E poi le quattro marchigiane con i sempre sentiti confronti con Ancone e San Benedettese. In attesa che domani pomeriggio il direttivo di Lega Pro ufficializzi i raggruppamenti per il Teramo. Questo è un mercoledì di ripresa degli allenamenti dopo l'eliminazione dalla Team Cup ad opera dell'Alessandria e i due giorni di riposo concessi dal tecnico Lamberto Zauli. Biancorossi al lavoro quasi al completo con la sola assenza in gruppo del centrocampista Ilari, le cui condizioni migliorano e presto potrebbe tornare in gruppo. Intanto sono in arrivo ulteriori test. Domani alle 18 al Bonolis con ingresso libero contro l'Alba Adriatica con pagine di eccellenza. Poi domenica pomeriggio contro il Pineto, squadra neopromossa in Serie D. La dirigenza del Diavolo e il tecnico Zauli cercheranno di capire se il Teramo è ok così o se c'è bisogno di qualche altro innesto. In attesa che venga scritta la parola definitiva sul prolungamento del contratto del centrocampista Stefano Amadio, un rinnovo annunciato dieci giorni fa dal presidente Campitelli ma che va ancora formalizzato. Termina qui la nostra rassegna stampa e quindi l'appuntamento con Mattino 6 che torna domani puntuale alle ore 7. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie.